Benvenuti a Shipshore News. Piccola schiarita nel cielo di nuovi cantieri a Puania. I cantieri navali di Marina di Carrara si aggiudicano una gara indetta da RFI per una nuova unità destinata allo stretto di Messina. Cetal vince la gara di Monfalcone. La controllata del gruppo Grimaldi si aggiudica 135 mila metri quadrati nel Porto Giuliano ma il bando della regione finisce sotto accusa. Passa di mano alla turca Ildirim il 20% di CMA-CGM. L'operazione appena conclusa ha un valore pari a 500 milioni di dollari. Glancor sente profumo di quotazione. Intanto prende il via con le prime tankers la joint venture con Sovcomflot. I presunti abusi di Brindisi. Un operatore del Porto Pugliese denuncia alcune prassi operative vigenti nello scalo argomentando nella supposta illiceità. I cantieri navali privati rivolgono il Ministero del Mare. L'ultima assemblea di Ancanap ha fatto il punto sul delicato momento della navalmeccanica. Ciani di nuovo in sella. Con una pronuncia a tempo di record il Tar del Lazio sospende il decreto di Matteoli e rimette al suo posto il presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia. Italiani protagonisti in Egitto. Grande partecipazione di aziende nostrane alla sesta edizione della fiera Trans Middle East ad Alessandria. Ambrogio Italia Repubblica Stradale. L'imprenditore pioniere del trasporto combinato giunge ad amare conclusioni sulla nostra politica dei trasporti nel settore ferroviario e spiega perché occorre fortemente la TAV Torino-Lione. Le crociere a Livorno finalmente si rendono utili. I soci, autorità portuale e camera di commercio si smaltiscono il malloppo di un corposo dividendo prima della incombente privatizzazione. Portualità a tutto tondo. La due giorni genovese di Port and Shipping Tech ha affrontato numerosi temi di attualità per le banchine italiane dalla Green Logistics alle relazioni col Maghreb. 75 candeline spente col Magone per il CIRM. La manovra finanziaria mette a rischio l'attività dell'ente? Salute in mare a rischio? Prende in largo la nave dei record di Royal Caribbean, crociera inaugurale per la Allure of the Seas che da dicembre porterà i turisti americani sulle rotte caraibiche. Un sottosegretario in cerca di autore. Giacchino continua il road show, la ricerca di risposte dagli operatori, ma poi l'ascolta e sa lui stesso darne di appropriate. Per ulteriori approfondimenti consultate la nostra rivista online al sito www.ship2shore.it Ship2Shore News, usciamo dopo i quotidiani, ma arriviamo prima sulla notizia.